E poi la conclusione di Chiesa, subito Federico Chiesa, dal 4 giugno al 20 di agosto, segna sempre lui a Udine. E vada Chiesa, che gran pallone, Chiesa contro Berisha, lo salta secco, va giù Chiesa, si rialza, la porta è vuota, ancora Chiesa, 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 fa 2 a 0. Chiesa, chiesa, chiesa. Cercare l'In Junior, la mette giù Fagioli, poi Chiesa, 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 2 a 2 al settantottesimo minuto. Ancora Chiesa, va al centro per... Blau vince! Dusan Blau vince! Parte Chiesa, Chiesa, piazza Martinez e ci porta avanti. Chiesa, 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 Chiesa! Federico Chiesa, torna al gol, torna a esultare, 3 a 0. Federico Chiesa, torna al gol, torna a esultare, 3 a 0. E poi grande palla per Chiesa, Chiesa con Mondas, Chiesa fa 1 a 0. Bremer, Gleison Bremer Chiesa, attenzione, Chiesa contro Skorupski Chiesa, corcia le distanze la Juventus Al settantaseiesimo minuto Chiesa cerca la giocata, riesce a passare Ancora Chiesa, forte Federico Chiesa direttamente in porta Secondo gol consecutivo dopo quello contro il Bologna Chiesa